Visto che in molti l'hanno già realizzata, voglio fare anch'io la classifica, che in realtà sarà una semplice lista, dei migliori film del decennio. Partiamo dal 2010, arriviamo fino al 2019 e per ogni anno vi elenco i 5 film, secondo me, più significativi. Saranno tutti elencati qua sotto in descrizione. Ovviamente ci sono dei film che mancheranno, sia perché posso non averli visti, sia perché ho dovuto scartare pellicoli interessanti per mancanza di posti. Alcune regole per questo video. Non considero le uscite italiane, ma l'anno di produzione del paese di origine del film. Mi viene più comodo fare così. Ovviamente il tutto sarà filtrato dal mio parere personale, dal mio gusto personale. Ovviamente elencherò non solo film oggettivamente validi, ma anche film che sono rimasti nella memoria collettiva, nella mente degli spettatori e ovviamente anche nella mia. Considerate il mio livello di conoscenza da cinefilo, ci sono tanti film che non ho visto, anche perché nel 2010 avevo 13 anni, quindi mancheranno tante cose, però spero di darvi un spunto interessante. Fatemi sapere i vostri film preferiti del decennio in descrizione, discutiamone, ditemi cosa ne pensate di quelli che vado a citare, ditemi se voi ne avreste inseriti altri, oppure se siete d'accordo con la mia lista. Ah, ho cercato anche di alternare i generi e i registi per non ripeterli più volte, per dare spazio un po' a tutti. Qualche regista però, per forza di cose, è ripetuto più di una volta. Iniziamo, vi vado ad elencare i cinque film per ogni anno e magari vi dico anche qualcosina su quelli che ritengo ancora più significativi all'interno dei cinque. Partiamo dal 2010. Voglio citare The Social Network di David Fincher, che racconta benissimo la storia di Mark Zuckerberg e di Facebook con il suo stile sempre un pochettino thriller. Impossibile non citare Shutter Island di Scorsese con DiCaprio e Mark Ruffalo, uno dei migliori thriller appunto del decennio. Inception di Christopher Nolan, non si può non citare un film che è rimasto molto impresso nella memoria collettiva. Uno dei thriller fantascientifici più geniali di sempre secondo me. Il Cigno Nero con Natalie Portman di Aronofsky, veramente un film disturbante che muove le budella. E per ultimo appunto voglio citare Il Discorso del Re di Tom Hooper. Un film veramente divertente, particolare, ricco di tensione ma anche di divertimento. E' un film che tecnicamente è quasi impeccabile. Passiamo al 2011. Iniziamo con The Tree of Life. Uno dei miei film preferiti, un film fantastico, emozionante, dove l'aspetto visivo conta tantissimo. Di Terrence Malick, assolutamente da recuperare. Così come è da recuperare Drive con appunto Ryan Gosling di Nicholas Winding Refn. Un film particolarissimo da vedere assolutamente. Anch'esso con un'estetica fantastica. Midnight in Paris di Woody Allen, un altro film geniale che dimostra ancora una volta come se ce ne fosse bisogno le abilità del regista. Ho voluto mettere L'alba del pianeta delle scimmie di Rupert Wyatt per citare un po' tutta la trilogia del, diciamo, prequel del pianeta delle scimmie. Perché è una delle migliori serie di film fantascientifici proprio del decennio. Che vanno secondo me assolutamente visti. Perché sono molto più profondi di quanto si possa pensare. E poi ancora una volta voglio citare Scorsese con il suo Hugo Cabret. Un film che è un gesto d'amore verso il cinema con un'estetica fantastica. Un film per ragazzi però che emoziona secondo me anche gli adulti. E Scorsese tratta un genere veramente diverso dal suo stile ma lo fa grandiosamente. Passiamo al 2012. Inizio con Il Lato Positivo. Uno dei miei film preferiti con Bradley Cooper e Jennifer Lawrence. La storia d'amore tra due persone mentamente instabili. Però uno dei film che mi ha emozionato di più. Uno dei miei preferiti. Che secondo me va visto perché tratta una storia d'amore in una maniera però finalmente un po' diversa. Ci entra anche Tarantino ovviamente in questa lista con il suo Django Unchained. Un fantastico western tarantiniano. Di più non so cosa dirvi. Poi c'è il capolavoro secondo me The Master di Paul Thomas Anderson con Joaquin Phoenix. Che darà poi anche vita a Joker. Guardatelo questo film perché è magnifico. È particolare ma indescrivibile la parola. Poi c'è Cosmopolis con Robert Pattinson di Cronenberg. Un altro film veramente fantastico che fa riflettere veramente tanto. E ci metto anche Katrin Bigelow con Zero Dark Thirty. Un film thriller che racconta dell'operazione che portò all'uccisione di Bin Laden. Con una fantastica interprete ovvero Jessica Chastain. Nel 2013 invece troviamo The Zero Thorem di Terry Gilliam. Un film fantascientifico veramente particolare in pieno stile del regista. Che però va assolutamente citato perché a me mi è piaciuto molto e mi ha fatto riflettere tanto. Di nuovo Scorsese con The Wolf of Wall Street. Una delle migliori performance di DiCaprio. Una delle migliori performance del regista. Come un tuono con Bradley Cooper e Ryan Gosling. Un film molto emozionante con un tipo di narrazione particolare. Con una storia particolare che anch'esso risiede tra l'Olimpo dei miei preferiti. Ci mettiamo Prisoners di Villeneuve. Anch'esso uno dei migliori thriller con Hugh Jackman e Jay Gillian. Un film che va assolutamente visto. Che mi ha fatto impazzire la prima volta che l'ho visto. E ci metto anche Quaron con Gravity. Uno dei film fantascientifici più interessanti. Che cerca di essere realistico ma non lo è. Ma è comunque bello esteticamente. Ma libera anche molto pato se tanta tensione. Passiamo al 2014 con il Birdman di Ignarito. Un film che è una ripresa continua. Ignarito dimostra tantissimo la sua capacità di dirigere. La sua capacità di complicarsi la vita con tecnicismi particolari. Però anche riuscitissimi. Perché incorniciati da una sceneggiatura interessantissima. Michael Keaton bravissimo. Guardatelo. Poi c'è The Nightcrawler con Jay Gillian. Un altro film veramente fantastico, particolare e inquietante. Che va assolutamente visto. Interstellar. Ce lo metto. Uno dei miei film. Potrei dire forse il mio film preferito. Christopher Nolan. Gioca con la fantascienza. E ci gioca secondo me veramente bene. Ha i suoi difetti ma a me ha sempre fatto impazzire. Esteticamente poi fantastico. Non so come possa non piacere. E c'è anche il buon e bravo Clint Eastwood con il suo American Sniper. Un altro dei film migliori del decennio assolutamente. Bradley Cooper fantastico. In un film che mi sarò sparato 20 volte. C'è anche un giovane regista ovvero Xavier Dolan con Mommy. Uno dei suoi film più particolari. Un film proprio che dimostra la ricerca particolare di questo regista. Un film veramente emozionante. Che va visto. Passiamo al 2015. Qua iniziano veramente a esserci tante esclusioni pesanti. Ma iniziamo con quello che è probabilmente uno dei capolavori più importanti di questo decennio. Probabilmente anche della storia del cinema. Ovvero Mad Max Fury Road di George Miller. Guardatelo perché è un film spettacolare. Sotto tutti i punti di vista è perfetto. Non c'è nulla da dire su questo film. Così come c'è poco da dire anche su The Revenant. Sempre di Ignarito con interprete DiCaprio. La sua migliore performance secondo me assolutamente. Sta zitto per quasi tutto il film ma è bravissimo. Un film con un'estetica, una fotografia che non lo so è introvabile. Guardatevi The Revenant perché DiCaprio che si fa pestare da un orso vale più di mille altri film. Ci metto anche Ridley Scott con il suo The Martian interpretato da Matt Damon. Un altro dei miei film di fantascienza preferiti. divertente però anche molto attento alla psicologia del personaggio. Ve lo consiglio. Di nuovo Tarantino con il suo The Eightful Eight. Non posso non citare questo fantastico film girato in un'unica location dove il regista ci prende veramente in giro e lo fa benissimo. Infine per quest'anno vi voglio citare The Lobster di Jorgon Slantimos. Su un altro dei migliori filmmaker che abbiamo attualmente. Un film con Colin Farrell. Fantascientifico, distopico, disturbante. Guardatelo perché è probabilmente uno dei film di fantascienza più particolari. E uno di quelli che meno mi sarei aspettato di vedere di questo decennio. 2016 partiamo con due horror. The Witch e The Neon Demon. Il primo di Robert Eggers e il secondo sempre di Refn. Due horror assolutamente da recuperare che sono dei veri capolavori. Esteticamente e tecnicamente sono fantastici. Offrono una storia e delle riflessioni interessantissime. Fanno parte di quel filone horror che ricerca, che cerca di essere diverso. Manchester by the Sea. Uno dei film drammatici più interessanti sicuramente appunto del decennio. Con un Casey Affleck veramente incredibile. Merita assolutamente più di una visione. Così come merita più di una visione secondo me La La Land. Io ce lo metto di Damien Chazelle. Un musical fantastico. Io non sono un amante dei musical ma questo mi ha fatto impazzire. L'ho visto più e più volte. Le sue canzoni ancora adesso le canto e le ricanto. Ma poi per ultimo ma non per importanza. Vi voglio citare anche qua un altro dei miei film preferiti. Animali notturni di Tom Ford. Un film con un'estetica fantastica. Una storia thriller pesantissima che però fa riflettere molto su temi sottili e interessantissimi. Non l'ho mai più rivisto perché è pesante ma me lo ricordo come se fosse oggi. È un film enorme secondo me. Passiamo al 2017 con tre manifesti a Ebbing, Missouri. Un film assolutamente da recuperare. Con una fantastica Francis McDormand. E anche un grandioso Sam Rockwell. Logan va assolutamente recuperato. Uno dei pochi cinecomic che ho messo in questa lista. E va visto perché è un cinecomic drammatico come non se ne hai mai visti. È un film che racconta non solo di Wolverine ma racconta proprio dell'uomo Logan. E Hugh Jackman è bravissimo ancora una volta a rendere vivo questo personaggio. Dunkirk di Christopher Nolan rientra in questa lista. Assolutamente uno dei migliori film di guerra degli ultimi anni. Nolan dimostra di essere uno dei migliori registi che abbiamo. Punto e chiuso. Chiamami col tuo nome assolutamente va anche in questa lista. Del nostro Luca Guadagnino. Un film che racconta una storia d'amore in una maniera fantastica. Con un bravissimo e giovane Timothée Chalamet. Un film che mi ha fatto innamorare. E che finalmente ha un finale positivo. Anche se tratta il tema dell'amore. E un altro film che tratta il tema dell'amore. Ma ne tratta mille. Con un'estetica fantastica. Un divertimento assoluto. Risate assicurate ma anche tanta tante emozioni e tanta riflessione. È Guardiani della Galassia volume 2. Considero anche l'1 un ottimo cinecomic. James Gunn è un genio. Dimostra come il cinema di intrattenimento può essere grande cinema. Infatti finisce dritto in questa lista. 2018 Green Book. Vince agli Oscar e se lo merita assolutamente. Perché è un film che tratta un tema importante. In una maniera però divertente. Con un fantastico Viggo Mortensen. E un bravissimo Marshall Ali. Che riesce a essere serio quando serve. Ma anche più leggero nel momento in cui lo spettatore ne ha bisogno. C'è di nuovo Damien Chazelle in questa lista. Con First Man il primo uomo. Film che racconta di Neil Armstrong. Il primo uomo sulla luna. Film bellissimo che ti fa vedere l'avventura spaziale della NASA verso la luna. Proprio dal punto di vista di quest'uomo. Sia personale che lavorativo. Tanta tensione. E la cosa bella è che hai praticamente solo il suo punto di vista. Non è la storia dell'Apollo 11 ma è la storia di Neil Armstrong. Poi torna Cuaron con il suo Roma. Un fantastico film in bianco e nero. Che racconta di un Messico molto particolare. Film che va visto molto di estetica ma assolutamente riuscito. E c'è anche Lars von Trier con La Casa di Jack. Uno dei migliori thriller pungenti che osano, che vogliono strafare ed essere sovversivi in pieno stile del regista. E ci riesce assolutamente. Un capolavoro secondo me. In questa lista troviamo anche i miei filmmaker preferiti. O comunque tra i miei preferiti. I fratelli Coen. Con il loro film La Ballata di Buster Scruggs. Un film fantastico. Un western a puntate, se così possiamo dire. Diviso in varie parti, in vari episodi. Bellissimo. Divertente. Con un'estetica fantastica. Che è sceneggiatura e storia pura. Ti interessi totalmente a quello che stai vedendo e ai personaggi. Per quanto riguarda invece il 2019 troviamo di nuovo Scorsese con il suo The Irishman. Che corona la sua carriera come regista. Un gangster movie da ricordare assolutamente. Che corona anche la carriera di attori come Al Pacino, Joe Pesci e Robert De Niro. Parasite. Un fantastico thriller che fa riflettere moltissimo e non voglio approfondire perché è un film che parla da sé. Di Bong Joon-ho. Anche questo è un capolavoro da recuperare. Troviamo anche Midsommar di Ari Aster. Un film esteticamente fantastico che mette veramente tanta tensione, inquietudine e che riesce a sorprendere. Guardatelo perché è molto particolare e gioca su certe sottigliezze che veramente io non riuscirei mai a immaginarmi. Voglio inserire anche Joker perché secondo me Todd Phillips insieme a Joaquin Phoenix ha creato un ottimo cinecomica all'interno di questo decennio. Un film spettacolare che riesce a dire molte cose usando uno dei personaggi più noti nel mondo del fumetto. Infine come ultimo film di quest'anno e di questa lista voglio citarvi Noi di Jordan Peele. Non ho citato Scappa Get Out per mancanza di spazio ma Jordan Peele è un altro di quei registi che riesce a fare qualcosa di diverso con l'horror. La sua estetica è precisa e le storie che cerca di raccontare, i temi che cerca di raccontare sono interessantissimi. Quindi va assolutamente recuperato. Questi sono i film migliori del decennio, i film che mi hanno appassionato di più, quelli che secondo me sono i più significativi. Spero di avervi dato degli spunti interessanti, spero che questa lista vi sia piaciuta, spero che siate d'accordo con me. Ma anche se non lo siete non importa, ditemi il vostro parere nei commenti. E' un gioco ovviamente per divertirsi, una lista per tirare un po' le somme di questo decennio che comunque mi sembra assolutamente interessante. Il cinema continua ad essere grandioso. Io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione, vi invito se vi va in descrizione a seguirmi sui social, potete trovarmi su Telegram, su Facebook e in particolare su Instagram. Iscrivetevi al canale se volete vedere altri video come questi e non perdervi nessun appuntamento, attivate la campanella. Vi ringrazio per avermi seguito in questa mia lunghissima lista. Ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!